Prima partita per la Kimet Sba nella fase interregionale del campionato Under-16 Eccellenza alle 19 al Palasport Estra con arbitri Signori Buongiorni di Pisa e Mariotti di Cascina, gli Amaranto guidati da Coach e Delia se la dovranno vedere contro la Cab Stamura Ancona. I giovani atleti della Kimet si sono qualificati a questa fase conquistando il quarto posto in Toscana in questa stagione sportiva però cambia la formula di accesso alle finali nazionali che la Sba aveva conquistato lo scorso anno invece di un concentramento interzona di tre gironi si disputa un girone interregionale composto da sei squadre che si affronteranno in gara di andata e di ritorno. Oltre ad Ancona che ha vinto il girone preliminare Marche Umbria e capace nel primo turno di espugnare il campo del Bianco Rosso Empoli le altre avversari della Kimet sono Poderosa, Monte Granaro, Alfa Omega Roma, San Paolo, Ostienza e Bianco Rosso Empoli. La vincente di questo raggruppamento si qualificherà direttamente alle finali nazionali che si svolgeranno a giugno a Taranto. La seconda e la terza classificata giocheranno uno spareggio in gara secca con le seconde e terze degli altri gironi. Per la Kimet è un'esperienza di alto livello che i giovani a Maranto sono smagnosi di vivere al massimo delle proprie possibilità. Per tutti gli appassionati di pallacanestro la possibilità da non perdere e di vedere in campo i migliori giocatori italiani under 16. primo appuntamento venerdì alle 19. Palasport Estra.